Il caro carburanti, gas ed energia, i prezzi alle stelle delle materie prime, la difficoltà a reperirle e la chiusura degli impianti di produzione strozzati dal caro bollette rendono impossibile proseguire le attività dei cantieri e costringono le imprese ed i dili della Sicilia a sospendere tutto e a porre il personale in cassa integrazione per difficoltà di approvvigionamento dei materiali. E' a rischio la sopravvivenza dell'intero comparto. L'annuncio drammatico è di Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, che aggiunge cominceranno le imprese del settore dei lavori stradali a causa dell'aumento del 600% del costo dell'asfalto che non rende più sostenibile l'esecuzione di interventi ai prezzi fissati all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto. Seguiranno le imprese impegnate nei cantieri del super bonus 100% e del bonus facciate, quindi quelle interessate dalle infrastrutture strategiche e dagli appalti finanziati dal PNRR. E' persino a rischio la possibilità di completare le opere del PNRR entro le scadenze concordate con l'Unione Europea. Servono misure vere di emergenza e il grido d'allarme del presidente dei costruttori siciliani per salvare dal disastro il settore che più di tutti ha garantito la ripresa del Paese e della Sicilia. Non possiamo più attendere, i prezzi di bitume, acciaio e alluminio sono inarrivabili. Tutti gli altri materiali scarseggiano e sono troppo cari. In più la volatilità delle tariffe di elettricità, gas e carburanti rende insostenibile l'economia dei cantieri e i trasporti. Cutrone rivolge un appello al governatore Nello Musumeci, al governo regionale, ai deputati dell'Arsa e ai parlamentari nazionali affinché tutti insieme pressino sul governo nazionale, sulla Camera e sul Senato perché siano adottate le necessarie misure per recalmerare i prezzi.